Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video io sono Damiria e oggi ragazzi vi insegnerò come mettere il cursore modificato sul computer come vedete ragazzi io ho un cursore modificato, non è la solita freccetta, ma è una torcia e ragazzi se clicco qualche tasto tipo questo stop mi esce Frankenstein e oggi ragazzi vi insegnerò come mettere questi tipi di cursori, iniziamo iniziamo ragazzi per più ragazzi andate su google chrome e cercate chrome web store cliccate nel primo risultato aspettiamo ragazzi e vi uscirà questa schermata allora ragazzi qua ci sono altri programmi e e altro ma raga qui dovete scrivere custom cursors for chrome clicchiamoci sopra e dobbiamo cliccare aggiungi allora ragazzi fate aggiungi estensione e da un momento all'altro vi dovrebbe uscire questo file raga e praticamente questo file serve per aggiungere dei cursori nell'app poi ragazzi poi ragazzi a un certo punto vi aprirà il sito ufficiale di come modificare i cursori e qua ce ne sono tanti e ci sono addirittura pure i cursori dei giochi popolari pure tipo come file guys per esempio e ce ne sono anche altri e ci sono pure quelli dei cantanti famosi tipo i cantanti del kpop come miku i bts e altro e poi ragazzi ci sono pure le collezioni pure dove ci sono i cantanti del kpop tipo miku e altro come vi ho detto raga e ce ne sono davvero tanti pure di stumble guys e altro raga ma c'è un problema come facciamo a scaricarli allora ragazzi per primo dovete avere scaricata questa app che si chiama custom cursor for chrome dopo avete che l'avete scaricata dovete ritornare sul sito e dovete cliccare add questo qui e quando vi uscirà la scritta add fate view ora ragazzi qui ci sono tanti cursori un gruppo eh allora ragazzi qui basta che fate add e ragazzi vi usciranno tutti i cursori nell'app quindi ragazzi dobbiamo aprire l'app ok e ragazzi eh vi usciranno eh i cursori che avete scaricato qui raga di voi io ho scaricato questo come vi ho fatto vedere e eh questo basta che fate apply e poi ragazzi a un certo punto vi apparirà questo cursore nel desktop allora ragazzi spero che il video vi sia piaciuto ragazzi iscrivetevi al canale e attivate la campanella e ciao ragazzi raga vi ricordo eh che dobbiamo arrivare ai 100 iscritti grazie a tutti